Se dovesse descrivere Vanni in tre parole, quali sceglierebbe e perché? Innanzitutto buongiorno a tutti, Vanni per noi rappresenta l'unicità dello stile, l'esclusività dei materiali e in ultimo un nostro claim che è il Made in Italy for sure, quindi occhiali effettivamente costruiti in Italia con qualità superiore e un savoir fare che abbiamo da tanti anni. Quali sono le novità che presentate quest'anno? Quest'anno presentiamo una nuova serie di blocchi di acetato esclusivi, per noi siamo arrivati alla decima edizione di blocchi di acetato esclusivi. Abbiamo un archivio di circa 85 blocchi diversi l'uno dall'altro, quindi un grande archivio storico. Il lancio di quest'anno è su una collezione che si chiama Wired, quindi dei fili colorati intrecciati fra di loro, tipo questi, o l'occhiale che sto indossando io, e sono una nuova collezione che ci accompagnerà per il prossimo anno. Quali sono le aspettative che avete da questa edizione? Da Mido 2017 ci aspettiamo grandi risultati, la presentazione dei nostri nuovi prodotti a 50 paesi in cui operiamo, ci aspettiamo di incontrare gli ottici italiani, quindi grande fermento, siamo molto contenti, per noi è il momento topico della stagione. Perfetto, allora noi vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo e un ottimo Mido. Grazie mille e a presto.